Il santo della Chiesa Cattolica Il sole sorgerà alle 7.34 e tramonterà alle 17.05 Il cielo, avremo oggi un cielo sereno poco nuvoloso Con temperature in diminuzione nei valori minimi In aumento nei valori massimi Per vedere il simbolo della pioggia Attenzione dunque alle gelate nei fondovale Soprattutto nella parte interna della nostra regione Per vedere il simbolo della pioggia Dovremo aspettare la giornata di sabato e domenica Insomma il fine settimana Domani vedete ancora tempo sereno poco nuvoloso Con giustamente le gelate Possibili gelate notturne al primo mattino Ma soprattutto nei fondovale Possibilità come dicevo di un lieve peggioramento Nella fine settimana Andiamo subito quindi a leggere i quotidiani E cominciamo dal Corriere Adriatico Che apre con il resoconto Del governatore della regione Luca Ceriscioli Ceriscioli che ha snocciolato i numeri Dell'impegno della regione sul Pesarese Oltre 229 milioni di euro investiti Su tutto il territorio Tra il 2015 e il 2019 Di cui una trentina di milioni Versati per sistemare le strade È questo insomma il bilancio Mentre il consigliere regionale del PD Andrea Biancani rilancia sulla Fano Grosseto Attendiamo il via libera del Consiglio Superiore Dei lavori pubblici Sulla riapertura della Galleria Della Guinza a senso unico Poi la cronaca con il colpo La notte scorsa a Mondavio Ai danni di un istituto di credito Una banca La Ubi Banca di Mondavio Quattro persone sono entrate in azione Hanno fatto saltare il banco Ma però questa volta dall'interno Un bottino che si aggira intorno ai 15 mila euro Secondo il Corriere Adriatico I banditi sono stati ripresi dalle telecamere Pesaro e Vallefoglia invece insieme Fuse, Ricci lancia il sondaggio Dopo Monte Ciccardo fa discutere l'idea del sindaco Il progetto di una maxi città in previsione Per il 2024 Mentre lo Sport in un angolino qua sotto La Vis Pesaro a Bolzano Mentre il Fano questa sera sfida contro la Samb C'era una volta invece il mercato Il resto del Carlino, l'edizione di Pesaro I cento posti auto in più non bastano A risollevare il San Decenzio E poi la vicenda, il processo I danni nei confronti di un dipendente Era che è stato denunciato da una donna Aveva fatto firmare un contratto Praticamente aveva falsificato la firma Del marito defunto Un contratto ad un morto da quattro anni Parliamo di bollette Torna a splendere il capolavoro di Giovanni Venanzi Siamo sempre sulla prima pagina Madonna col bambino Eccolo qua E poi verso le regionali Ceriscioli passa indietro Dice lui non ne faccio E quindi vado avanti Ma la cronaca con il boato all'Ubi Esplode roller cash Banditi in fuga con 20.000 euro Poi sotto picchiato dal barista Cliente perde un occhio E si sta svolgendo in questi giorni il processo Lo sport a Bolzano e a San Benedetto Vissefano cercano le imprese in trasferta Allarme inquinamento Lega Ambiente chiede le domeniche Anti smog Qui siamo sul Cardino di Ancone I finti matrimoni Si allarga il giro del traffico di badanti clandestine Ma c'è anche la fotografia del sindaco di Castelferretti Siamo vicini a Falconara Che posa con i tre ragazzi Che hanno restituito L'abbiamo letto nei giorni scorsi E un portafogli Con dentro tutti i soldi e i documenti Non hanno battuto ciglia Ciglio come l'hanno trovato Questo portafoglio L'hanno consegnato al legittimo proprietario Il sindaco giustamente li ha premiati Poi la cronaca e il Carlino di Macerata Con a centro pagina notizia Che riguarda le buche e le incurie in via della pace La protesta dei residenti La strada dimenticata E addio a Garbuglia Ex giocatore calciatore di Lazio e Udinese Era di Corridogna Ma apriamo le pagine interne Qui siamo sul Carlino di Ancona La fotografia è della piccola Jennifer Morta nel rogo di Servignano Vicinofermo In realtà la notizia di oggi Oltre all'arresto della mamma Che è accusata di aver dato fuoco all'appartamento La notizia di oggi è che Jennifer Sarebbe morta molte ore prima dell'incendio L'incendio forse serviva soltanto per coprire la verità Ma quale verità? È su questo che si stanno rovellando Gli inquirenti per cercare di fare luce Senza perdere troppo tempo su questa terribile vicenda La donna arrestata si sarebbe costruonata Non per salvare la figlia Ma per simulare il rogo Era infatti quando Jennifer l'hanno trovata I vigili del fuoco Quando sono arrivati poi i sanitari Era in stato di rigor mortis E la rigidità cadaverica era piuttosto avanzata Una prova che la versione dei fatti raccontata dalla mamma della piccola Ha molte falle a partire dall'orario del decesso Ed è per questo che il sostituto procuratore di fermo Francesca Perlini Che coordina le indagini sulla morte di questa bambina di sei anni Sarebbe convinta che qualcuno abbia ucciso la piccola E che questo qualcuno possa essere appunto la mamma La mamma delle bambine avrebbe utilizzato il gas Per simulare un rogo accidentale Durante le operazioni si sarebbe procurata Le ustioni alle mani al viso Scrive Fabio Castori del Carlino questa mattina Ustioni che inizialmente la miticova E questo è il cognome della mamma appunto Aveva raccontato ai carabinieri Essere conseguenza del tentativo di salvare la sua primogenita dalle fiamme Una versione che però non ha mai convinto gli inquirenti Perché Jennifer non è stata rinvenuta carbonizzata Come sarebbe dovuto accadere se il fuoco l'avesse raggiunta E poi c'è la storia dell'automobilista Che insomma la vista seduta sul ciglio della strada Apparentemente senza fare nulla E questa è la fotografia che il resto del Carlino pubblica questa mattina Della famiglia esclusa ovviamente la più piccola Che adesso è affidata ad una comunità protetta Qui abbiamo una famiglia dove Jennifer appunto non c'è più Ma c'è anche il marito di Pavlina Mitkova Che è l'uomo di origine kosovara Che quella sera, quella maledetta notte Non era presente in casa Era impegnato per lavoro fuori città Poi è rientrato di corsa E dice lui Mi fido di mia moglie Stiamo insieme da 10 anni E non ha mai dato motivo di dubitare di lei A parlare è appunto il marito di Pavlina Mitkova Padre di Jennifer Questa bambina di 6 anni che la procura di fermo Sospetta essere stata uccisa dalla mamma Prima di dare fuoco alla sua abitazione Per coprire eventuali prove Qual è il pensiero adesso di Ali? Il pensiero di Ali ovviamente oltre alla moglie Che è in carcere a Pesaro nella sezione femminile E nei confronti della figlia sopravvissuta A quella maledetta notte Che ora si trova in una casa protetta Capisco che ci siano necessità investigative E mi rendo conto del perché la mia figlia minore Sia stata portata via dalla sua famiglia Ma prego chi di dovere di farmela riabbracciare Al più presto Perché mi è rimasta soltanto lei E alla mamma viene attribuito invece Secondo l'avvocato Sabbioni Anche l'incendio Lui non parla L'avvocato dice Attendo di leggere gli atti Poi dirò la mia versione Ma c'è anche C'è anche il comune L'amministrazione comunale di questo paese Che è stato sconvolto da questa tragedia Il paese come dicevo è servigliano Nella fotografia come vedete Qua di fianco a Jennifer C'è il sindaco Rotoni E la presidente della Proloco Luigina Rossi Che hanno detto parole stupende Stanno avendo un atteggiamento impeccabile Di fronte a questa tragedia E hanno detto parole sensatissime Parole sante avrebbe da dire Come amministrazione Dice il sindaco Seguendo la volontà di molti cittadini Abbiamo avviato delle iniziative di sostegno Che resteranno in funzione Nonostante l'epilogo Nonostante dalla tragedia Che poteva essere quella delle prime ore Si è passati al dramma Le emozioni e l'impulsività del momento Dice il sindaco Non possono pregiudicare i fatti Abbiamo quindi di fronte sempre comunque una tragedia Le difficoltà di un padre che ha già perso una figlia E come amministrazione dobbiamo dare una risposta Non possiamo comportarci come un servizio a gettoni Dove le cose si fanno in base alle emozioni O lo stato di popolarità che assume Una posizione a cui fa eco anche appunto la Proloco Che ha effettivamente attivato poi il conto corrente di sostegno In favore alla famiglia Dice come associazione Proloco Da tradizione e da statuto Dice la Rossi Siamo sensibili al sociale Di conseguenza in merito a questa vicenda Ci siamo messi subito ad aprire un conto corrente Intestato alla famiglia Per cercare arredi E per fare questo nuovo appartamento De destinare ai parenti della povera bambina E sotto nella seconda pagina del Carlino A parte l'ingresso della casa dove ci sono i fiori Vedete alcune persone È un paesino di poche anime Però dicono i residenti Noi siamo ancora più addolorati per la povera bimba L'abitazione era stata sistemata da poco Dice uno del paese Ho pensato subito a una fuga di gas Conoscevo però quell'appartamento Ed era stato sistemato in maniera impeccabile Arredato come un gioiellino Ed era piuttosto improbabile che si fosse trattato Del malfunzionamento di qualche elettrodomestico Boato all'Ubi Banditi in fuga con 20 mila euro A Mondavio fanno esplodere il roller cash Con la tecnica della marmotto Utilizzata una Fiat Panda Rubata a fratte rose e poi abbandonata Un altro colpo era stato messo a segno Nel giugno scorso San Michele al fiume A Marotta invece Lavori sul lungomare Mancano i parcheggi Attività economiche a rischio È un'interrogazione dei 5 Stelle Che dicono Occorre ripristinare i posti auto Almeno per l'inverno A Fano La pagina di Fano Del Corriere Adriatico È tutta sugli sforamenti Delle polveri sottili Insomma l'anno non è cominciato bene Da questo punto di vista Interviene la Lega Che dice Basta con questi provvedimenti spot Abbattere le polveri Ecco la nostra ricetta Dal lavaggio delle sedi stradali Alla creazione di aree boschive Pronta la mozione del carroccio Ovviamente dobbiamo ringraziare Il padre interno Che ci ha mandato la pioggia Che ha fatto il suo mestiere Perché con le polveri sottili Non c'è antidoto migliore Che appunto la pioggia La richiesta da parte della Lega Tra le varie che ha presentato Più autobus E piste ciclabili Che colleghino il centro di Fano Con le zone periferiche Con le zone industriali Per agevolare soprattutto Il percorso lavoro-casa Poi sotto invece C'è spazio per Un'altra area della città di Fano Che necessita di sistemazioni Interviene qua il comitato Lido Sulla sosta Mancano interventi organici Dicono quelli del comitato Si fa riferimento non solo Al parcheggio transennato In questo momento dell'ex Vittoria Dove d'estate si può parcheggiare E dove come abbiamo visto ieri C'è difficoltà nell'accesso Ma la questione che invece Preme il comitato È quella dei parcheggi Specie dopo la decisione Di trasformare a pagamento da giugno Quelli di Viale Cairoli Di Via Spontini E Piazzale Amendola Incide anche la variabile Non di poco conto Che se tra Pasqua e primo maggio Il bel tempo Dirottasse gente al mare Teoricamente Piazzale Amendola Sarebbe ancora occupato Dal cantiere della vasca di raccolta E l'ex Vittoria Che sarebbe ancora off-limits Poi c'è il restyling Anche la sistemazione Del sottopasso di Viale Cairoli Oh questa è una notizia Che vorrei soffermarmi un attimo in più Perché ci riguarda anche da vicino È un bel progetto Di cui fa parte anche Fano TV Il titolo del Corriere di questa mattina È C'è un Montalbano fanese È il commissario Moretta È un nuovo impegno Per il regista Henry Secchiaroli Al lavoro per una serie poliziesca In televisione Un poliziesco dunque televisivo È un nuovo progetto Con cui sta lavorando Il regista fanese Henry Secchiaroli La serie di 5 puntate Da 30 minuti ciascuna Sarà coprodotta da Fano TV E da Ego Film La casa cinematografica indipendente Fondata nel 2009 Dall'esperto di effetti speciali Andrea Giomaro E dallo stesso Secchiaroli Il promo Che tra l'altro Trasmetteremo Ovviamente anche noi È previsto Dopo la metà di febbraio In coincidenza In concomitanza Con il ritorno Nelle sale cinematografiche Dell'esilarante Sbancati 1944 Il terzo capitolo Della saga fortunata Fanese E le riprese Saranno effettuate Spiega Osvaldo Scatassi Del Corriere Adriatico Aire Secchiaroli Saranno effettuate In gran parte a Fano Con qualche incursione Anche nelle zone Limitrofe Circostanti Il cast Afferma Il regista Sarà composto Da attori Del panorama cittadino Il nuovo progetto È una sfida inedita Perché usciamo Infatti dal filone Ironico Dialettale Che ci ha dato Tante soddisfazioni Per misurarci Con una storia Di tensioni Dunque Il commissario Moretta Prossimamente Su Faro TV 1-0 A forma di goccia Invece È l'altra notizia Sulla pagina di Fano Del Corriere Un nuovo logo Dell'Avis All'interno anche L'arco d'Augusto Disegnato da Davide Servadio Ha vinto il primo premio La città Entra invece Nel circuito Degli itinerari Della bellezza Cosa sono Questi itinerari Della bellezza È un progetto Ideato da Confcommercio Che mette in rete E valorizza I comuni Del territorio Promuovendoli Con una costante attività E con iniziative Di comunicazione turistica Per 365 giorni L'anno Il Carlino di Fano Picchiato dal barista Cliente perde un occhio Il titolare del locale È a processo Per lesioni gravissime La parte offesa Adesso chiede Un risarcimento Di almeno 70 mila euro Il fatto risale Al 24 febbraio Del 2018 Il barista Accusato di lesione Ha chiesto Ieri al giudice Di voler patteggiare La pena In accordo Con la procura Due anni di reclusione Al ferito Al ferito Invece L'imputato Offerto come risarcimento 70 mila euro Più l'intestazione Di un immobile Del valore Di circa 50 mila euro Una violenza Che è scoppiata Come dicevamo La notte Del 24 febbraio In un bar Del centro storico Fanese Disarmarono invece Un uomo Sono stati premiati Gli agenti eroi Nella festa Della polizia locale Delle Marche Si tratta Di Roberto Stefanelli E Maurizio Valentini Della polizia locale Di Fano Che sono stati Insignati Del riconoscimento Dalla regione In una cerimonia Che si è tenuta Ad Ascole A Gimarra di Fano Invece Ha tutto skate Due nuovi impianti Verranno realizzate Le piste Con onde E ostacoli Un'area per il parcheggio Spogliatoi E un punto ristoro A disposizione Un'area Da 5 mila Metri quadrati Grazie Alla famiglia Vitali Crocifisso Salvato dai romagnoli Siamo Nella cronica Di Fossumbrone Caglia Urbania L'opera di Giovanni Darimini A Mercatello Sul Metauro Restaurata Grazie ad un gruppo Di benefattori Quando i dipinti locali Furono portati via Per ragioni di sicurezza E conservazione I cittadini Si mobilitarono La tragedia Di 76 anni fa È viva Nell'anima Dei Durantini Siamo Urbania Domani Alle 12.42 Tutto si ferma Per ricordare Il bombardamento Che ha segnato Per sempre La storia cittadina Curva della morte Siamo a Pesaro Passi avanti Per la rotatoria Delle silicate Pronta la convenzione Con Anas Ieri è stata illustrata In commissione Belloni Dice Speriamo di iniziare I lavori Entro quest'anno Ora l'atto Sarà approvato In giunta In consiglio Poi serviranno La firma di Anas E poi naturalmente Gli espropri Dei terreni Per realizzare La rotatoria I pomodori Sul terrazzo Maturano a gennaio Ma la vera stranezza È che non li avevo Mai piantati Pensate Pomodori belli E pronti Sul proprio terrazzo A gennaio Non farebbe notizia Se non fosse il fatto Che Stefano Poderi 69 anni di Pesaro Non li ha mai piantati Si vede che qualche seme È finito lì Sul terreno E poi giustamente La natura fa il suo corso Poco amore invece Per il nuovo festival A Vallefoglia Eventi senza ritorni economici Nicolini Capogruppo del centrodestra Dice Mantengano le promesse fatte Dove è finito Il capannone Delle idee Il consigliere Brizzi Dice Aggiunge È un giudizio preventivo Senza conoscere Il programma Della tre giorni In effetti Il programma Del festival dell'amore Così come annunciato Dal sindaco Palmiro Occhieli Che è la prima vera novità Del 2020 Targata Giunta comunale Non ha ancora svelato Il suo programma Ma suscita Per lo meno Qualche pregiudizio Anche dettato Dal tema Insomma Che Festival dell'amore Insomma Potrebbe essere di tutto Telegramma Dei Cinque Stelle A Gratteri Tutta la nostra vicinanza Il gruppo di Vallefoglia Attivo Nelle manifestazioni A favore Del procuratore Andiamo sulla cronaca Di Senigale Del resto del Carlino Finta Sordomuta Chiede l'elemosina È stata fermata I carabinieri Hanno sorpreso Una ventenne Nella galleria Del maestrale Il complice È riuscito a fuggire Con i soldi Raccolti Mentre Paura tra i passanti Per alcuni ubriachi Che si Sono picchiati E se la sono data Di santa ragione In strada Una coppia Divisa dalla polizia Conosciuti come Tossicodipendenti Per due volte Si sono presi A calci E pugni A Urbino Il metanodotto Arriverà anche Nelle frazioni Il servizio Fu attivato 34 anni fa Ora È la volta Di Pieve di Cagna Torre Santomaso Cavagnino Calmonte E calzapalla Miniera Dunque Le frazioni Attendono Questa metanizzazione Dal 1986 E finalmente Ci siamo L'intervento Costerà 184 mila euro Si inizierà Dalla zona Di Pantiniere Di Pantiere Quindi Dopo tanti anni Di attesa Arriverà Il metano Sempre Dalla Dalla pagina Sempre in Urbino Però questa volta Dal Corriere Adriatico Sgarbi Ora si gioca La carta Macron L'opposizione La solita Butad Il critico Parla di impegno Personale Del presidente Per il Raffaello Londè E Rosate Attaccano Ci vogliono Mesi Vittorio Sgarbi Da Parigi Torna con un pugno Di polvere Niente ritratto Di Castiglione Anche ieri sera Il critico Annunciato Al Ducato Che è una rivista Della università Che sforna Giornalisti Di Urbino Che il presidente Emmanuel Macron Incontrato a Parigi Insieme A Teresa Castaldo Ambasciatrice D'Italia in Francia Si sarebbe impegnato Personalmente affinché Il ritratto di Baldassare Castiglione Di Raffaello Arrivi a Urbino Lo staff del Museo Parigino Ha spiegato al Ducato Che i prestiti Concessi La mostra Raffaello 1520-2020 Alle scuderie del Quirinale Fanno parte Di un accordo Sottoscritto Dai Ministeri Della Cultura D'Italia e Francia Che in questi accordi Non è stata fatta Alcuna menzione Di Urbino Rilancio Elettrica Per Fossombrone L'idea impazza Sui social Dopo la messa A riposo Del trenino Di Piancerreto Sulla Cororica Della Valle del Cesano Esplosione in banca Con la polvere pirica Il colpo Nella notte Fermato da una banda Rubati 15 mila euro Sotto Moto incontro Rombi Alle pendici Del Catria Torna domenica L'iniziativa Del club Lattanzi Di Ancone Siamo a frontone La rivoluzione Invece scottadito È servita Alle sardine Al banco di prova fanese Dopo l'esordio a Pesaro Sabato Il movimento delle sardine Cercherà di creare La stessa partecipazione Anche a Fano In piazza Amiani Ed è chiamata Simpaticamente La rivoluzione scottadito Perché a Fano Sapete insomma Abbiamo anche noi Le sardine Le lici Quindi le scottadito Che arriveranno appunto Nelle piazze fanesi E sarà Nella piazza Dei giardini amiani Su cui si affaccia la memo Luogo culturale Di scambio Di partecipazione L'orario Per chi volesse partecipare Alle 17.30 Sabato prossimo Sono stati chiamati A raccolta Tutti coloro Che credono In una politica sana Partecipata Aperta agli ultimi Non violenta Che si batte Per la parità di genere E per l'ambiente Itinerari della bellezza La città della fortuna C'è Come abbiamo visto Anche sul Corriere Adriatico A Pesaro Invece Nuovi parcheggi Vecchi problemi Malgrado i cento posti Auto in più Il San Decenzo La fiera Il mercato Non si risolleva Viaggio tra gli ambulanti Del mercato L'animazione Che tra l'altro È stata fatta Solo i primi giorni Poi è già conclusa L'area di sosta Non hanno prodotto Gli effetti Desiderati Sperati E tutti rimpiangono Il luogo Dove si svolgeva prima Ovvero Il Carducci C'è chi invece Sempre restando a Pesaro Dove è stata investita Qualche settimana fa Un ragazzino Una studentessa Dell'Agrario A scuola si va più sicuri Adesso ci sarà Un semaforo A chiamata Sulla Adriatico La decisione Dopo l'investimento Di due ragazzine Avvenute Mentre attraversavano Appunto Le strisce pedonali Ieri mattina C'è stato un sopraluogo Dei tecnici comunali Con l'assessore Belloni I tempi dell'installazione Saranno brevi Smog La vera battaglia L'efficientamento energetico La CNA rimarca Il primato di Pesaro A livello regionale Si legata Convenzione per il rondola Rotatoria Ma il progetto Si dovrà modificare I residenti del San Bartolo Chiedono l'installazione Di un altro autovelox Mentre sotto Provincia Nove punti Tra gli interventi L'importo complessivo Di 700 mila euro Che rientra Nello stanziamento ministeriale Ogni anno Da parte della provincia Di Pesaro Viene fatto un controllo Sui punti Per verificarne Le condizioni E la tenuta Mentre L'ultima pagina La Super Pesaro Ricci Sogna E Sonda Mentre Ceriscioli Dice già è difficile Un'unione L'ipotesi con Vallefoglia Fa discutere Corsa contro il tempo Per l'iter regionale Della fusione Con Monte Ciccardo Dunque Monte Ciccardo Che si fonderà A Pesaro Per incorporazione Ma per arrivare All'ufficialità Dell'operazione Il percorso È tutt'altro Che concluso Mentre concludiamo La nostra rassegna stampa Con la pagina dello sport Quella che riguarda L'impegno Granata Di questa sera Riviera Contro una Samba Caccia di Rivalsa Dopo il K.O. Interno contro la Vis Dopo la battaglia Con il Ravenna Preoccupa la tenuta fisica Ma bisognerà Farsi trovare pronti Questa sera C'è alle 20.45 Allo stadio Riviera Delle Palme Di San Benedetto Del Tronto Questa partita Di calcio Una partita Che sa appunto Di derby Al sapore del derby Noi invece Ci fermiamo qui Con la rassegna stampa Occhio Giornali Torna domani mattina alle 7 Grazie per averci seguito Ci vediamo stasera Alle 20.30 Con il telegiornale Occhio alla notizia Arrivederci